A partire dall'estate del 1962 la chiesa di Santa Maria Nuova a Fano ospita una rassegna di concerti d'organo che è la più antica manifestazione musicale della città. L'evento che è organizzato dall'assessorato alla cultura del comune di Fano e dai frati minori di Santa Maria Nuova si svolgerà dal 4 al 26 agosto con inizio alle ore 21 e 15. Tutti i venerdì artisti italiani e stranieri si esiberanno al grande organo. Lo strumento elettrico con console mobile realizzato nel 1959 è composto di tre tastiere, una pedaliera, 80 registri sonori e quasi 3000 canne. Cinque artisti per quattro concerti in programma? Esattamente, la rassegna più antica della città ospita anche quest'anno quattro concerti venerdì di agosto con cinque artisti perché il primo concerto è un duo, voce e organo, soprano e organo e una coppia spagnola che presenteranno un repertorio spagnolo. A seguire poi c'è un organista inglese, la prima volta che un inglese viene a suonare qui a Fano e due artisti italiani, in particolare un giovane estremamente valido che ha vinto concorsi internazionali in tutto il mondo. Gli organizzatori sono al lavoro anche per iniziare un rapporto di gemellaggio con la Svizzera dove viene organizzato un evento analogo da ben 56 anni, ma le novità non terminano qui. La cosa nuova per quest'anno è il proseguo di questa manifestazione nel territorio, quindi dopo questi quattro appuntamenti a Santa Maria Nuova ci saranno sette appuntamenti, sempre il venerdì e la domenica di settembre, fino al 25 settembre, in altri tanti comuni che hanno dato adesione a questo progetto che allarga gli orizzonti di questo storico festival.